Anche grazie all'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'edilizia è tra i settori in piena ripresa. Secondo Lance, nel secondo trimestre 2021, gli investimenti in costruzioni sono cresciuti del 54%. Solo in Veneto, nei prossimi anni, sono stimati interventi pubblici per più di 3 miliardi e mezzo di euro, cui potrebbero aggiungersene altri 6 di riqualificazioni degli edifici privati come effetto dei bonus introdotti. Eppure sia per i privati che per la pubblica amministrazione è difficile trovare tecnici in grado di gestire appalti, cantieri e opere pubbliche. L'Ordine degli Architetti e l'Ordine degli Ingegneri di Venezia hanno organizzato il primo corso in Italia per contract manager. Una figura professionale di alta specializzazione, nata per affiancare studi professionali e imprese di costruzione che abbiano rapporti con la pubblica amministrazione. Esperto quindi di codice degli appalti, di testo unico dell'edilizia e delle nuove norme sull'urbanistica. I già laureati in architettura che decidessero di specializzare in questo ambito potrebbero gestire processi di gara e di appalto che spesso i grandi studi fanno e quindi essere in grado di promuovere criteri di gara e di partecipazione alle gare estremamente competitivi. L'edilizia non è l'unico comparto in piena ripresa. Indicatori positivi si registrano anche nel manifatturiero e nel metalmeccanico e anche questi settori si scontrano con l'assenza di precise professionalità, proprio come l'edilizia. I problemi sono numerosi, il tema della sicurezza nei cantieri, il tema della transizione ecologica, il tema dei nuovi materiali che ci consentano appunto di avere degli edifici che siano ecologicamente sostenibili.